La Juve riesce a chiudere con una vittoria, l'annata straordinaria secondo Allegri che l'ha vista perdere contro il Monza ne ho promosso due volte, contro l'Empoli e adesso finisco qui perché altrimenti l'elenco sarebbe interminabile, ci metteremmo due ore e una vittoria inutile sul campo dell'Udinese in una partita inutile, dico vittoria inutile che serve solo per le statistiche perché la Roma vincendo la sua partita di fatto estromette la Juventus dall'Europa League e la squadra di Allegri va in conferenza che poi non la farà allo stesso perché probabilmente verrà esclusa d'ufficio la Luefamo questi sono altri discorsi. Stagione straordinaria, va bene, tu ti becchi un bello zero come voto a tutta la stagione per questa partita specifica, caro Allegri, ti prendi cinque anche se hai vinto perché quello ti meriti soprattutto per certe dichiarazioni folli e oscene e poi vabbè stasera Scesni si è in mezzo perché fa due belle parate, la difesa, i tre della difesa tutti sei Di Maria chiude con un'insufficienza perché all'ultimo secondo si mangia un gol pauroso Locatelli stasera un 6 se lo merita stiracchiato perché quantomeno serve a Chiesa l'assist per il gol decisivo Chiesa finalmente 7, un bel gol, una partita ricca di qualche spunto interessante e speriamo che sia di buon auspicio per la prossima stagione. Ciao ciao! Grazie a tutti!